Ciao, sono Massimo e oggi voglio presentarvi la linea Spark Elvi nelle sue nuove configurazioni. La gamma Spark è la linea semiprofessionale per il mercato MMA prodotta nel nostro stabilimento di Sandrigo in provincia di Vicenza. Praticità, leggerezza e facilità di utilizzo rendono Spark un inverter di saldatura ideale per l'hobbista, ma anche per il professionista che necessita di un pratico alleato per i piccoli e grandi interventi di tutti i giorni. I modelli sono Spark 226, 200A al 25%, Spark 186, 160A al 25% e Spark 146, 120A al 25%. Tutti con cicli di lavoro a 40 gradi centigradi come previsto dalla normativa di settore. Tutta la gamma ha un grado di protezione IP22S con plastiche antiurto e autoestinguenti. Anche in questi modelli sono previste le funzioni di anti-stick, hot start e arc force. Tutti e tre i modelli sono disponibili anche con kit scatola, che comprende cavo massa e pinza porta elettrodo in neoprene, correttamente dimensionati a seconda del modello, una marto spazzola e una maschera da saldatura in plastica. Per i modelli 186 e 226 è disponibile anche kit borsa, che comprende sempre il cavo massa e la pinza porta elettrodo in neoprene, correttamente dimensionati a seconda del modello, e una marto spazzola. Proviamo ora la Spark 186 con Johnny, il nostro welding specialist. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.